Da quando ci siamo insediati il primo atto che abbiamo approvato come giunta comunale è stata la riduzione del 10% dell'indennità di sindaco e assessori a favore di progetti per la città. Era un punto del nostro programma elettorale che avevamo promesso e che abbiamo rispettato e che abbiamo portato avanti in questi anni. Si tratta di risorse non ingenti però comunque si tratta di un segnale per noi molto importante perché come i cittadini fanno dei sacrifici anche gli amministratori comunali devono dare il buon esempio. Negli anni scorsi abbiamo avviato il primo concorso di idee, in quel caso le risorse erano di 16.500 euro, l'importo risparmiato. Ed era l'importo risparmiato da giugno del 2016 a dicembre del 2017 con 16.500 euro. Abbiamo restaurato il monumento ai caduti che poi è stato inaugurato in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale e poi abbiamo anche installato le attrezzature sportive all'aperto sul lungomare ai giardini di Undice Roine. Quest'anno ripartiamo, abbiamo riaperto il concorso di idee per le risorse risparmiate da gennaio del 2018 a dicembre del 2018. Le risorse che abbiamo accantonato sono di 10.700 euro e quindi è aperto il concorso di idee. Tutti i cittadini ci potranno chiedere come migliorare la nostra città, come migliorare il nostro territorio e quindi avranno la possibilità di fare la proposta inviandola all'email urp.chiocciolacomune.mondolfo.pu.it entro il 15, entro e non oltre, il 15 marzo e poi come amministrazione comunale valuteremo le proposte, quelle più fattibili. Ci sono arrivate già diverse proposte, alcuni hanno fatto anche delle proposte che sono poco fattibili, come ad esempio l'asfaltatura di un'intera strada oppure la piscina comunale, però comunque a noi ci serve anche per vedere quelle che sono le esigenze in generale della cittadinanza. Poi terremo in considerazione solo quelle che sono compatibili con le risorse a disposizione.